Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme le braciole pugliesi. Tenere, succulente e gustose. Questa è con la ricetta di mia madre Angela. Vediamo insieme come realizzarle. Prendete le fettine di carne e adagiatele su un tagliere. Aggiungete sale, pepe, prezzemolo tritato, aglio e un pezzetto di parmigiano o di pecorino. Arrotolate le fettine di carne chiudendole bene. Quindi fermatele con uno stuzzicadenti. Scaldate il tagame. Aggiungete le braciole e fatele scottare per qualche minuto, aggiungendo anche l'alloro. Mescolate di tanto in tanto fino a quando non si sarà formata una leggera crosticina in superficie. Quindi aggiungete l'olio e lasciate rosolare. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Aggiungete adesso la passata di pomodoro. Mescolate. Aggiustate di sale. Coprite e portate a bollore. Abbassate il fuoco e lasciate cuocere dolcemente. Lasciate sobollire per 4-5 ore fino a quando le braciole non risulteranno tenere e morbide e il sugo non si sarà ristretto. Ed ecco le nostre braciole. Sono pronte. Impiattate e servite. Col sugo rimasto potete condire orecchiette, polpette o quel che volete. Le braciole, come vedete, risulteranno tenerissime, tanto da essere tagliate con una forchetta. Alla prossima videoricetta. Ciao!